Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Jerry Scotti in lacrime, la terribile confessione che sconvolge tutti i suoi fan. Parla del lutto che l'ha sconvolto, distrutto e che ha stravolto la sua vita. Un lutto che anche a distanza di tanti anni non riesce a dimenticare. Queste le sue strazianti parole. Mia mamma e mio papà sono morti entrambi in un giorno, ma in anni diversi, NDR, senza una visaglia, senza una malattia, senza dare il tempo di preoccuparsi o di capire cosa fare. Mia madre aveva 67 anni, era molto giovane. Mio padre se n'è andato 4 anni più tardi. Li ho salutati la sera prima e il giorno dopo non c'erano più. E' con gli occhi lucidi e la voce rotta dall'emozione che Jerry Scotti ha parlato della morte dei suoi genitori. Il conduttore nonostante sia passato diverso tempo ormai dal lutto, il dolore è ancora forte, tanto che non è riuscito a trattenere le lacrime al ricordo. Li scopri che tu sei la pallina colorata del pallottoliere. Non provate a fare calcoli con la vita, perché all'improvviso arriva qualcuno, prende il mano il pallottoliere. Lo scuote e voi non siete più nessuno, ha concluso lo zio Jerry.